da ieri a un gran parlare della vicenda, drammatica e a dir poco disdicevole, che vede coinvolto in prima persona morga il cantautore, a processo per stalking e rivend porn, avrebbe preseguitato e minacciato la cantante Angelica Schiatti, con cui aveva avuto una relazione. Il cantautore, a processo per stalking e rivend porn, avrebbe preseguitato e minacciato la cantante Angelica Schiatti, con cui aveva avuto una relazione. I dettagli raccapriccianti, raccontati da Selvaggia Lucarelli, hanno giustamente scatenato l'indignazione dell'opinione tra i vari commenti anche quello, pungente, di Bogo. Dopo che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, Warner Music, etichetta di Morgan, ha scritto un post su social, Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei, dopo che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, Warner Music, etichetta di Morgan, ha scritto un post su social, Warner Music Italy, alla luce dei contenuti e dei, dopo che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, Warner Music. Proprio sotto questo post è arrivato il commento di Bogo, che ha lasciato una lunga per chi non lo ricordasse. Tra Bogo e Morgan c'è stato un duro. I due, infatti, hanno partecipato insieme all'edizione di Sanremo del Dù. I due vennero squalificati per defezione il 7 febbraio 2020, durante la quarta sera. Il motivo? Morgan aveva cambiato il testo della canzone, inserendovi critiche pesanti nei confronti di Bogo, il quale decise quindi di abbandonare il palco, interrompendo lesi. La vicenda è finita in tribunale, con Morgan che è stato assolto dal Tribunale di Impere e dall'accusa di diffamazione nei confronti del collega perché il fatto non è un post condiviso da Warner Music Italy chiocciola Warner Music Italy.